Fate giocare sempre a Nazionale e Nation League, perché probabilmente è l'unico torneo in cui sembriamo una squadra, quantomeno, a parte gli scherzi, che poi tanto scherzi non sono, perché credo che abbiamo fatto tre terzi posti nelle due edizioni, se non ricordo male, comunque non me l'aspettavo, sinceramente per quanto la Francia forse è in un momento un po' di calo, o meglio, forse il ciclo di Deschamps è in un momento di calo, forse sta cominciando a finire il ciclo, anche perché è lì da 12 anni, adesso non mi ricordo, anche una Francia in declino, tra virgolette, poteva e, tra virgolette, doveva vincere contro l'Italia che, ormai vediamo da 18 anni, ma comunque abbiamo visto nell'ultimo europeo. E la prima mezz'ora sembrava essere così, perché beccare gol dopo 14 secondi per l'errore di Lorenzo sembrava un déjà vu. Invece, dopo il trentesimo, o comunque dopo il gol di Di Marco, si è vista una buona nazionale, dai, cerchiamo di trovare i dati positivi di quel poco di buono che abbiamo. Forse coinciderà il fatto che giochiamo bene perché Tonali è tornato, per quanto non entriamo nelle faccende extracampo, che non è il luogo adatto, come giocatore è assolutamente di valore, infatti il centrocampo ha girato con lui. Voglio sottolineare la prestazione anche di Ricci, secondo me, col senno di poi, ok, siamo tutti buoni. Probabilmente il taglio agli europei, prima degli europei, è stato frettoloso. Nel secondo tempo di Lorenzo, quantomeno, è sembrato un calciatore, è già qualcosa, però comunque anche basta, farlo giocare sempre. E comunque, ho giocato bene anche a Raspadore, probabilmente Spalletti sa toccare le corde giuste. Frattesi, come sempre, è una delizia, insomma, una certezza, che quando gioca segna praticamente sempre. Se è fatto male, ovviamente non dico quello che ho detto quando si è fatto male, perché ce l'ho, nei due Fanta che faccio, ho frattesi, e vabbè, lasciamo a perdere. Comunque, è una buona, buona partita, è finita adesso, stavo registrando gli ultimi minuti. Già, oggi dai, non voglio essere troppo critico, come faccio di solito. Qualche elemento buono, noi ce l'abbiamo. Continuo a dire che siamo un inizionale molto mediocre, però se quel poco che abbiamo lo fai girare un pochino meglio, non dico che vinciamo i mondiali, però, un altro punto, qualificarci, sì. Magari sfruttare quel poco che abbiamo, ci può far qualificare il mondiale, oppure trasformiamo le qualificazioni mondiali in una nation league, nella nazionale, probabilmente si sveglierà. Allora, per cambiare idea su Spalletti, sulla nazionale, ci vorranno molte, molte, molte partite, tornei molto più importanti, eccetera, eccetera. Io sono fatto così, ho bisogno di prove, di ulteriori prove, per farmi cambiare idea, per avere, o quanto meglio, fiducia in una nazionale che ha fatto pena quasi sempre in questi ultimi 18 anni. Dai, con il ritorno di Tonali, con Ricci, Sem, finalmente qualche squadra, anche Big, sta facendo giocare qualche giovane, Pisilli, Savona, altre che non ricordo. Speriamo che anche Leoni del Parma possa rivelarsi un ottimo innesto per il futuro nazionale. Continuo a pensare che molte convocazioni sono fatte un po' dai procuratori, un po' dal sistema, gli amici, gli amici, che c'è nel calcio italiano, mettiamocelo in testa. Speriamo che questa problematica del calcio italiano, che abbiamo forse solo noi, o quasi, possa veramente non trappare le ali a giocatori giovani, una buona Under 21. Uno, tipo Ruggeri, inespiegabile, che giochi nella Nazionale Under 21, dopo che ha vinto l'Europa di assoluto protagonista. Altra che adesso non ricordo. Comunque, Fabian, se continua un po' così, potrebbe rientrare anche lui nel giro della Nazionale Maggiore. Comunque, non voglio essere troppo ottimista per questa vittoria qui, però ammetto che mi ha stupito questa Nazionale. Vediamo contro Israele, che magari è una Nazionale più scarsa, comunque sicuramente più scarsa della Francia, e quindi magari psicologicamente tu la puoi un po' sottovalutare. Invece magari col Belgio, essendo che vuoi farti vedere, vuoi far vedere che la Nazionale è viva, che la Nazionale non è quella dell'europeo, magari fai un pochino meglio, invece con Israele ti mancano più le motivazioni e fai un pochino peggio. Anche in questo aspetto la Nazionale deve crescere assolutamente. Un saluto, al prossimo video. Ciao!